Regione Toscana, il consiglio regionale. Il consiglio regionale della Toscana dà il via libera allo psicologo di base. L'atto è stato approvato dall'Aula a larghissima maggioranza, ma non all'unanimità. Ha ottenuto 37 voti favorevoli con l'astenzione di Elisa Tozzi del gruppo misto Toscana Domani, mentre Silvia Noferi del Movimento 5 Stelle non ha partecipato al voto. La nuova figura a servizio della salute dei cittadini lavorerà in raccordo con i medici e i pediatri di base sul territorio. La nascita di questo nuovo servizio dello psicologo di base da parte della Regione Toscana ha l'obiettivo di allargare l'offerta di servizi sanitari nell'ottica di una presa in carico globale della persona e della sua salute, compresi gli aspetti psicologici. Da tempo si è riscontrata, anche nella nostra Regione, una crescente domanda di assistenza nell'ambito dei bisogni di carattere psicologico da parte della popolazione, incremento facilmente rintracciabile anche nell'aumento del consumo annuo di antidepressivi. La pandemia da Covid-19 poi, oltre ai ben noti danni fisici, sociali ed economici, ha comportato un peggioramento della condizione psicologica, soprattutto in alcune fasce di età e categorie. Ecco, questa legge pone un punto essenziale in un momento in cui noi stiamo costruendo il modello di casa di comunità toscano e questa legge dice che lo psicologo di base deve essere dentro la casa di comunità e deve essere in rapporto stretto e sinergico con due soggetti. Sono da una parte il servizio di salute mentale dell'azienda, tra te che si dice che il coordinamento scientifico e l'indirizzo e il controllo lo fanno il Dipartimento di Psicologia dell'Asa di Salute Mentale. Dall'altra parte con il medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta e gli specialisti territoriali, perché nella legge abbiamo scelto che non ci può essere un accesso diretto del cittadino allo psicologo di base, ma l'accesso è mediato dal medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o lo specialista del territorio che possono indirizzare. Questo perché ci fosse uno stretto legame tra tutti i soggetti erogatori dei servizi nell'ambito della casa di comunità e quindi una scelta forte dove si dice in Toscana nelle case di comunità ci devono essere i medici, gli specialisti, ma ci devono essere, avevamo già detto, gli assistenti sociali, ora diciamo con questa legge in maniera chiara anche lo psicologo di base. Fratelli d'Italia, la proposta di legge che istituisce lo psicologo di base, tra l'altro un voto che viene anche da una mozione unanime di Fratelli d'Italia votata lo scorso luglio del 2021 che poneva la questione all'ordine del giorno dei servizi che non soltanto la crisi pandemica ha acuito più che rendere necessari, chiaramente siamo cautamente ottimisti nel senso che aspettiamo adesso di lavorare in commissione con il collega Diego Petrucci alla redazione del regolamento attuativo di questa proposta di legge che però chiaramente è un primo passo importantissimo nei confronti di tutto ciò che va affrontato a livello sanitario in questa regione. Possono essere entrambe queste due soluzioni applicate secondo noi però vorremmo alla fine del percorso che si possa sostanzialmente procedere a fare in modo che il servizio sia veramente fruibile nei modi più opportuni in maniera adeguata e omogenea su tutto il territorio regionale. Questa legge sancisce un principio, un principio forte che il benessere psicologico è un diritto e come tale deve essere alla portata di tutti di conseguenza anche i servizi sul territorio devono tenere conto di questo aspetto e devono organizzarsi affinché le persone riescono a trovare nei servizi delle aziende sanitarie questo tipo di risposta. È un servizio che evidentemente nasce anche da quanto vissuto dalla nostra terra, dal nostro mondo negli ultimi anni le grandi difficoltà e le grandi incertezze legate a fatti con ricadute globali ma che nasce anche da un'esigenza di promozione della cultura della salute che va al di là di questi fatti contingenti. Il benessere fisico e il benessere psicologico concorrono e questo l'ha detto a più ripresa anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità al benessere generale delle persone e delle comunità perché poi è ovvio che le persone compongono appunto le nostre comunità e l'idea di trovare all'interno delle case di comunità una rete di professionisti con evidentemente la regia del medico di medicina generale del pediatra di libera scelta nel mettersi appunto in relazione con gli altri professionisti mettendo il paziente al centro è un aspetto che questa legge non soltanto esprime ma valorizza quindi penso che oggi sia un bel giorno penso sia un giorno importante per il sistema sociosanitario della nostra regione e per cittadini e cittadini toscani è ovvio che da oggi comincia un altro tipo di lavoro perché la giunta deve dare attuazione attraverso il regolamento agli aspetti più veramente organizzativi di quanto previsto dalla norma e l'obiettivo e l'augurio evidentemente è che il prima possibile questo sia un servizio nella disponibilità della cittadinanza e dei professionisti perché ovviamente quando si parla di sanità non bisogna mai dimenticarci che si sta tutti insieme e che è un sistema perché evidentemente al suo funzionamento concorrono sia i cittadini sia i professionisti che le strutture organizzative Lo psicologo di base secondo noi è diventato ormai essenziale non soltanto per aiutare le persone nella gestione di quelle che sono state le conseguenze di una pandemia molto dura ma anche nei confronti di una società che è sempre più complessa e che mette le persone in condizione anche di aver bisogno di un aiuto in alcuni passaggi della loro vita e il chiedere l'aiuto di un terapeuta, di un psicologo deve diventare qualcosa di naturale come chiedere a un medico di base proprio perché è necessario uscire diciamo da questa bolla di anormalità che sembra circondare delle volte le persone Maggiore attenzione deve essere dedicata ai giovani, ai nostri ragazzi, ai nostri bambini e su questo sono contenta che siamo andati dietro a una scia che aveva inaugurato il Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura quando nel piano strategico della sanità era stata dedicata solo una scarna pagina alla salute mentale dell'infanzia e dell'adolescenza quindi questo è un grande passo avanti e siamo contenti che nel preambolo sia precisato questo passaggio purtroppo c'è anche un passaggio per quanto riguarda le donne e la necessità di un maggior supporto alle donne, al genere femminile che non condividiamo non tanto nei contenuti che sono stati espressi dalla Commissione Pari Opportunità tutti sappiamo che il genere femminile, le donne, le madri soprattutto sono state molto più pressate durante la pandemia per il carico mentale enorme che è gravato su di loro per quanto riguarda il caregiving degli anziani, dei malati dei bambini che rimanevano a casa per fare la didattica a distanza e spesso sono state loro che hanno dovuto rinunciare al lavoro ma tutto questo non ha bisogno di uno psicologo per aiutare le donne a sopportare un carico di lavoro che gli è imposto da una società dove ancora l'uguaglianza, la parità di genere tra uomo e donna viene sbandierata ma di fatto non attuata le donne non hanno bisogno di maggiore aiuto psicologico hanno bisogno di un alleggerimento del carico, hanno bisogno di una maggior condivisione hanno bisogno di superare il gap salariale che porta le famiglie spesso a chiedere alle donne di rinunciare al proprio lavoro e attività professionale perché il loro stipendio è inferiore quindi non aiuterebbe a sostenere le finanze familiari ecco c'è bisogno di tutto questo passaggi che sono stati condivisi nel corso degli anni in quest'aula quindi la formulazione così come è stata prevista non ci convince e faremo una modifica per restituire alla regione toscana un testo che sia più adeguato anche alle sensibilità che in questo momento dobbiamo rivendicare con forza la parità di genere è un passaggio che come dice la commissione pari opportunità deve essere sottolineata e deve essere rafforzata in tutte le sue sedi fosse anche il preambolo di un testo giuridico un successo che viene da lontano l'iniziativa parte da quando avendo approvato il piano sanitario regionale nel 2019 abbiamo voluto fare un focus particolare sulla salute mentale è un servizio sociale e sanitario ovviamente inserito nell'ambito dei distretti sanitari che dà una prima forma di risposta a tante esigenze che nascono nei territori e ci deve essere una collaborazione con il medico di famiglia ovviamente con la pediatria con gli infermieri di famiglia che molte volte conoscono le esigenze dei nostri cittadini una collaborazione che consentirà a molti psicologi di essere convenzionati all'interno dei distretti sanitari nel contempo serve rilanciare però massima attenzione alla questione che riguarda la salute mentale e per fare questo è necessario che si investa sempre di più su psichiatri su neurologi, su servizi di salute mentale che possono poi dare risposte curative qualora le patologie sono oggettivamente in alcuni casi invalidanti ed entrano nell'ambito della sfera della sanità e della salute mentale Allora, lo psicologo di base sicuramente è una legge importante di cui andiamo fieri non è la Toscana la prima ad aver istituito questa figura ma comunque direi che abbiamo fatto un passo importante le cifre stanziate per questo primo periodo non sono molto alte perché se voi considerate che è stato dato 350.000 euro a fronte di un Abruzzo che ne ha messi 400.000 è ovvio che non ci sarà grandi disponibilità però credo che sia stato fatto un passo importante e che questi medici, psicologi in convenzione piano piano potranno essere messi a tempo indeterminato con il lavoro fisso è importante per tanti fattori perché questo Covid ha mostrato veramente una difficoltà a gestire i periodi di lockdown e conseguentemente ci siamo accorti quanto fosse importante affiancare al medico di base, al pediatra di base un supporto psicologico soprattutto per i più giovani che si sono visti rubare gran parte della loro gioventù in questi anni C'è stato un voto di astenzione perché la valutazione è stata molto semplice noi è stato valutato dal Consiglio regionale di approvare un provvedimento che sostanzialmente nasce un po' anche sulla spinta emotiva di quelli che sono un po' di dati allarmanti che hanno riguardato il post pandemia e quindi questa fase difficile soprattutto tra i giovani di recupero anche di una dimensione sociale e quant'altro non credo che legiferare su una spinta emotiva poi porti a valutare nel pieno quelle che sono invece un complesso secondo me di criticità che riguardano l'insieme del servizio sanitario toscano noi abbiamo una costante necessità di risorse abbiamo una costante necessità di interventi faccio riferimento banalmente anche solo al fatto delle automediche che oggi non hanno il medico a bordo alla questione dell'emergenza alla questione dei pronto soccorsi ecco io credo che prima di andare nel particolare magari su un'onda emotiva comprensibile anche si debba invece guardare con molta attenzione non solo alla questione delle risorse e quindi della programmazione ma anche alle tante questioni irrisolte cito di nuovo la questione del 118 che era esplosa per esempio nel Chianti una mozione che ancora oggi non ha visto il pronunciamento della Commissione Sanità benché sia un tema che ha visto anche la raccolta di firme di un intero territorio ecco la mia visione è che si debba partire da altro in questo momento sulla sanità toscana il Consiglio è partito in piena legittimità su altri presupposti io ho ritenuto come dire di lasciare che questa proposta fosse abbracciata dalla maggioranza ma di non di fatto condividerne non tanto il contenuto ma soprattutto le premesse da cui si parte quando si regifera in materia San Casciano dei Bagni in Toscana questa settimana è salito alla ribalta protetto per 2300 anni dal fango e dall'acqua bollente delle vasche sacre è riemerso in questi giorni dagli scavi un deposito votivo mai visto oltre 24 statue in bronzo di raffinatissima fattura 5 delle quali alte quasi un metro tutte integre e in perfetto stato di conservazione una scoperta che riscriverà la storia e sulla quale sono già al lavoro oltre 60 esperti di tutto il mondo il commento del presidente della regione toscana su quanto accaduto a San Casciano in Bagni vi confesso che io non tanto il ritrovamento delle 24 statue ma la sindaca mi aveva avvertito l'altra settimana che i ritrovamenti che sono stati fatti dall'inizio di ottobre ad oggi erano ritrovamenti su cui la sovrintendenza avrebbe dato notizia più puntuale dovevamo essere silenziosi fino a quel momento ma ecco sono contento che la sindaca Agnese Carletti sia stata una grande promotrice che questi scavi sono stati fatti con un accordo di valorizzazione sottoscritto dalla regione toscana quindi siamo parte di questo e che gli archeologi attraverso questo lavoro comune che il comune la regione regione toscana il consiglio regionale grazie a tutti grazie a tutti